guardiamo se è lui dalla maglietta è lui non capisco bene cosa c'è scritto perché non ci vedo ma in certi casi è meglio non saper leggere allora ciao il tuo nome alex ciao alex secondo me ti sposi forse forse già che forse si sposa già quanto che sono ancora in tempo sei sempre in tempo prima del matrimonio con chi ti sposi alessia con alessia devi dire agli amici a casa del convento chi è per te alessia la donna della mia vita è la donna della tua vita sei sicuro per ora si per ora si a fine serata rivediamo dopo un po di di alcol dopo un po di alcol vediamo se cambi idea allora i tuoi amici stanno facendo un video anche loro come il nostro collega mister dave e salutiamo gli amici del convento che insieme a tanti altri festeggiati nubilati celibati vedranno questi video come il tuo sul nostro sito salutiamo anche la tua futura moglie che dici gli facciamo una promessa vi devi dire giurin giurello questa sera non faccio il monello pronto vai alessia no ripeto giurin giurello questa sera parol bravo il convento vai giurin giurello questa sera farò il bravo il bravo il bravo mia parriolo Grazie a tutti.